salve pronto buonasera io ho una chiavetta della team oggi non mi riesco a connettere pronto mi dà il numero di telefono della faccita iva? ligo chi è intestata non ho la faccita iva? non ho in questo momento disponibile non ho il numero di telefono della chiavetta nemmeno? no il numero della team? nemmeno solo la persona qui è intestata chi è intestata? marina bassani alla chiavetta? si si aspetta vi faccio mio figlio perchè si pronto salve servizio sono in business si ecco no oggi non mi scondete la chiavetta si mi serviva che c'è il codice seriale della scheda che è quello stampato sopra che è inizio con 819 ah aspetti lo cerco lo cerco rimanga in attesa a 128 128 120 120 B26 T Un numero che inizia con 8 o 9 Aspetti che io non capisco Sì